Ciao ragazzi, io sono Red e come avete visto oggi siamo qui, tornati in un nuovo incredibile, sfenomenale, sfrigolante, sfantab... video. Un po' troppo lunga forse, vabbè, la teniamo, ci piace, ci piace. Come avete letto dal titolo, oggi facciamo un bellissimo progetto custom, non è il progetto custom che volevate, ma il progetto custom che vi meritate. Certi uomini vogliono solo vedere bruciare il mondo. Oggi customizzeremo l'M13 di Call of Duty Modern Warfare. Sia io che il buon War ne abbiamo uccisi di Camper con quel fucile. Il modello però che noi andremo a customizzare nella realtà si chiama MCX Virtus. Molto bello ragazzi, non è l'esattissima copia dell'M13 perché questo è il modello più nuovo, il paramano è leggermente diverso e anche il calcio, però per il resto è tale e quale. Bando alle ciance, ciancio alle bande, sigla. Vorrebbe, ma sai che fai proprio cacare sui copi? Prima però di proseguire voglio fare e ritagliare un piccolo momento nel video in cui ringrazio la nuova patch che ci è arrivata. Era da un po' che non ne entravano, finalmente ce n'è stata inviata una nuova, sono dei SAG RC, molto carina col maiale che fuma il sigaretto, ci hanno dato anche il loro bigliettino immagino da visita, molto molto carino e poi sono stati altrettanto gentili perché ci hanno mandato una breve lettera dove sostanzialmente ci ringraziano, ci dicono che loro vengono da Reggio Calabria, quindi siamo fratelli di Reggio diverse. Sono andati anche loro su YouTube, quindi se volete andate a fare un salto sul loro canale e siamo entrambi molto contenti di giocare a questo bellissimo sport insieme, quindi grazie ragazzi. Finito con i preamboli, passiamo al video, torniamo però nel 2018 quando un giovane red si stava avvicinando al mondo di YouTube e non sapeva ancora scandire le parole come doveva, quindi avvicinatevi. Bene, partiamo adesso con il custom, guardate quanto è bello, ovviamente sto parlando del buon war che c'è lì dietro e ci darà una mano a montare tutti gli accessori. Allora, io direi che possiamo partire con questo. Partiamo con questo grip verticale corto della Element, si attacca direttamente al RIS con attacco M-Lock, molto molto carino, è leggermente inclinato, ecco grazie mille, in modo tale che quando poi dopo lo andate a impugnare vi permetta di prenderlo in vari modi e sia più gentile sul vostro polso. Questo è un movimento particolare, guardate quanto è interessante. Per semplicità adesso andiamo a smontare tutto quanto il RIS perché va ovviamente attaccato e avvitato da dentro. Noi adesso lo attacchiamo dritto, si può attaccare anche al contrario, quello dipende da comodità vostra, c'è e vedo che persone lo fanno, come per esempio Lucas Botkin di T-Rex Arm, se non lo conoscete andato a seguire, è un drago e vedete in questa posizione in modo tale che stiate prendendo sostanzialmente appunto al contrario. Devastante! E guarda come vengono bene le cose con una valletta che fa tutto. Si avvita ovviamente dall'interno e poi dopo si può andare a rinserire sulla canna. La volta che avete montato il vostro bellissimo grip angolare non vi resta che chiudere il paramano che si sfila come quello del G36 grazie a questo perno appunto. Visto che siamo già in tema paramano direi che possiamo montare la torcia che vi servirà per illuminare il buio dove si nascondono i camper. Adesso andremo a montare una slitta qui e un'altra invece che propriamente non è una slitta ma la chiamerò slitta lo stesso in modo tale che ci sia appunto l'attacco angolare. A lei il lavoro sporco. Ovviamente dobbiamo andarlo a smontare. Alcuni di voi si potrebbero star chiedendo perché lo avete rimontato se poi lo dovete andare a smontare. Perché facciamo le cose con attenzione e cura. La slitta che sta montando il buon war ha sempre l'attacco M-Lock quindi vi basta semplicemente andare ad attaccare poi dopo con il piedino che c'è all'interno lo andate a bloccare sul wrist. Andiamo a allentare anche l'altra e gliela montiamo per bene sopra. Sposta un attimo la mano, portala a favore di camera. Guardate che bel lavoro. Come potete vedere questa qui è quella che c'era sotto e questa qua invece è la slitta che non è propriamente una slitta che attacchiamo sopra e ci dà la possibilità di avere questo wrist angolare. Bene, adesso che l'abbiamo chiuso possiamo andare a montare sopra quella bellissima nuova slittina che abbiamo montato la torcia. La torcia che andremo a montare è questa bellissima Wazen che in realtà è fatta dalla Eimo. Arriva fino a 600 lumen. Qui dietro troviamo l'attacco per il remoto. In confezione trovate anche il culo semplicemente con il pulsantino nel caso voi non vogliate montare il remoto ed è già provvista dell'attacco da attaccare appunto sul RIS. Ma Red, ma perché la metti inclinata? Che figo. Ottimo. Guardate che bellezza incredibile. Bene, come avete notato su questo fucile però manca qualcosa qui e qui. Ovvero le tacche di mira. In confezione non ci sono, non è un grosso problema a mio parere però sono pronto a discuterne nei commenti. Noi ci andremo a mettere queste due bellissime M-Bus 2 della Apple veramente molto carine. Partiamo da quella anteriore che andremo ad attaccare qua basta proprio infilarla e poi dopo andare a chiuderla e stringerla con la sua vitina. Ottimo. Adesso che è montata in questa forma perfetta, stupenda, bellissima e la andiamo a mettere anche lì dietro. Guardate la precisione, la bellezza. Bene, quindi una volta che abbiamo messo le tacche di mira direi che possiamo terminare questa zona qui. Visto che abbiamo un sistema di illuminazione ma può essere migliorato ci andremo a mettere questa replica dell'unpack di Baldua e della Element molto carino e basta. Ce lo andiamo a mettere, guardate è molto simpatico più che altro perché ha una forma leggermente diversa dal vostro solito ampecchino ha ovviamente la possibilità di andare a coprire tutte le vostre cose avete due laser e la torcia le batterie le mettete dal davanti mentre sugli altri normalmente le andate a mettere di qua e mi dicono dalla regia che non sapevo che non tiene due batterie come gli ampec 15 ma ne prende solamente una. Ottimo. Va ovviamente stretto sul RIS niente di più semplice visto che ha sempre quegli attacchini lì delle viti. A brugola avete poi tutte le impostazioni qui dietro questo qui è un ampec veramente carino perché va un pochino a variare dai soliti ampec 15 come ho già detto già visti non andremo a montare un remoto perché ovviamente c'è la possibilità dell'attacco simile a quello tra l'altro della torcia comunque non ce lo andremo a mettere perché con questa impugnatura faccia vedere Valletta gentilmente è possibile andare a premere direttamente sul tastino che è qui di fianco che è questo qua c'è scritto proprio fuoco e lo potete andare a premere in maniera semplice e vi evita di avere 200.000 cavi e robe che passano qui visto che questa zona è già abbastanza affollata anche se l'ampec non ha bisogno di remoto la torcia invece ce l'ha quindi andremo ad attaccare grazie a questo bellissimo buchino nel retro mi dissocio un punto attacco remoto che andrà ad attaccarsi qua sopra in modo tale da poterci arrivare con il pollice abbiamo preferito non metterci una slit dove c'era appunto l'incavo per metterci questa affare qui perché sarebbe diventato molto difficile poter prendere il fucile in questa maniera così invece è molto minimal così invece è molto minimal e non abbiamo bisogno di fare dei giri strani con le mani vedete la presa è abbastanza solida e non ci dà nessun tipo di impedimento sia per accendere l'ampec che usare la torcia ottimo quindi adesso andremo a montare un bellissimo porco ok perfetto come potete vedere questa cosa mi sta disturbando le e l'altra cosa è che come sapete sull'M13D codici si possono mettere i 300 blackout quindi ci vuole il silenziatore dedicato in modo tale che rispari i colpi più più stiamo parlando di questo silenziatore qui è della Madbull 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 su licenza non ce la posso fare oggi su licenza Gemtech e come vedete scritto lì è 300 BLK 300 blackout molto carino anche il culo del silenziatore fatto veramente bello e soprattutto da questa parte qua troviamo la ghiera zigrinata per stringere molto molto ben fatto andiamo quindi a smontare questo spegni fiamma a tre punte abbastanza iconico di questo fucile ci andiamo a montare il silenziatore blackout ah si avvitaglielo tutto siamo già messi a buon punto direi che però ci manca ovviamente un sistema di puntamento 8 elettronico godete quando lo dico lo so che lo fate cosa ci andiamo a mettere quindi? un Crossfire Red Hot della Vortex è veramente figo questo tipo di mirino è il mio preferito infatti tendo a montarlo su tutti i miei fucili sono un grande amante del T1 ma questo lo supera in vari e svariati punti noi ovviamente andiamo a tenere gli attacchi alti in confezione ci sono anche quelli bassi nel caso vi servono però per l'estetica del fucile che vogliamo noi abbiamo il vantaggio di averlo già pronto mentre la mia valletta lo monta io vi dico che la versione 2 di questo mirino è una bomba infatti io sono come ho già detto grande amante di questo modello ma la versione 2 veramente si supera in svariati punti infatti rispetto alla 1 con un cambiamento di prezzo veramente e dico veramente irrisorio vi offre non solo un led migliore migliorato che consuma molto meno la batteria una batteria che tra l'altro già durava dei mesi ma inoltre grazie a questi nuovi led appunto offre una scala di intensità luminosa maggiore e anche la possibilità di essere utilizzato con visore notturno questo significa che sul corpo del mirino troveremo come opzione la night vision 1 e la night vision sono queste letterine qua che vi servono per l'utilizzo col visore notturno il fucile è praticamente pronto direi che abbiamo fatto un gran lavoro se non che manca la parte non più importante però quello per cui l'M13 su COD perlomeno è molto famoso ovvero il suo caricatore trasparente per quelli di voi che ogni tanto mi chiedono che caricatori consiglio anche se ci abbiamo fatto un video apposta questa è un'ottima opzione per un caricatore economico monofilare che ha delle features abbastanza interessanti in quanto oltre ad avere i colpi in trasparenza quindi anche un pochino di realismo questo grip dato da questi pallini sul corpo e anche i numeri di quanti colpi tiene effettivamente possiamo andare a vedere in questa parte qui quanti colpi ci sono rimasti dentro non in maniera effettivamente precisa non è a livello delle PM1 della PTS o anche per esempio degli X-Mag però comunque offre qualche features interessante ed è un ottimo acquisto anche per variare mamma mia quindi questo è effettivamente il nostro prodotto finale direi che gli abbiamo fatto un gran cacchio di lavoro vi lascio a un paio di riprese da vicino e noi ci vediamo nelle conclusioni finali quindi come avete visto questo è il prodotto finale mi piace veramente tanto ragazzi è comodo da utilizzare però soprattutto è stato equipaggiato a dovere ha un'estetica secondo me molto accattivante adesso come? adesso io non ho moltissimo da dirvi in quanto ve l'ho commentato mentre lo creavamo per l'appunto lascio quindi la parola al buon war che come al solito ci darà un paio di sue opinioni croccanti ma soprattutto un pochino salate un po' arrabbiate su questo fucile su come l'abbiamo equipaggiato microfono amico allora intanto sì questo è il mio fucile ma no non lo uso così o almeno quasi quindi direi di farlo apparire subito come lo uso io lo uso con un sistema di puntamento diverso questo qui montato sopra l'FC1 replica I'm O il Vortex è spettacolare ma l'ho già su un altro fucile quindi ho voluto cambiare un po' a discapito purtroppo della funzionalità perché questo è una replica quello è un mirino vero e il caricatore per quanto mi piaccia da impazzire quello lì traslucido con colpi dentro preferisco per affidabilità e perché questo qua è un fucile equipaggiato con MC3 Plus avrete un video poi a riguardo un caricatore che mi stia dietro anche ad altissimi ROF e che sia impeccabile in tutto adesso che problemi ha questo fucile? questo fucile ha solo e soltanto un unico problema a parte il produttore la batteria dentro al paramano questa cosa mi fa imbestialire perché o la mettete lì e vi si vede dopo perché il paramano è scheletrato oppure la mettete nell'unpack e fa che comunque perché sennò dovete togliere lui quindi la batteria nel paramano è l'unico problema che si porta dietro altri problemi ad esempio in questa configurazione non possiamo sfilare il paramano senza prima sfilare l'attacco del remoto questo entra e esce tutto il tempo non ho saputo resistere tutto il tempo non gli fa sicuramente bene per quanto sia un remoto fatto molto molto bene l'ultimo problema è il silenziatore questo silenziatore è 3 mm in totale più largo dell'attaccatura del RIS quindi sempre per il discorso di prima quando andiamo a sfilare il RIS si blocca qua quindi va sfilato va svitato il silenziatore sfilato il RIS messe la batteria rimesso il RIS riavvitato ricollegato è una rottura di cazzo incredibile si può ovviare costa tanto ovviare ma si può fare mettendo un RIS da arma vera compatibile con il silenziatore subsonico che è un po' più larghetto nel terminale oppure un silenziatore a sgancio rapido però baffanculo io preferisco i loghi della Gemtech con 300 blackout e quindi mi f***o è buona per il resto è un'arma spettacolare l'hanno definita il nuovo Gucci Rifle sì forse sì perché costa una fucilata fucile costa una fucilata e non so bene quale sia il problema per questo prezzo folle gli interni sono Avalon sono spettacolari i VFC i loghi sono fatti da Dio non c'è mezzo gioco non c'è mezza sbavatura sembra l'arma vera la Sig Sauer lo vende sul suo sito ufficiale insieme alle armi vere ma cazzo ma 600 euro sono una fucilata ma che cazzo di prezzo è è allucinante mi ci compro quasi un Mario SRE che non mi piacciono ecco perché ho comunque questo fucile qua bene siamo arrivati alla conclusione quindi di questo bellissimo video spero che questa custom vi sia piaciuta cerchiamo sempre di portarvi contenuti nuovi quindi vi ricordo di lasciare un mi piace magari anche un commento grazie da qui continuo io ciao ragazzi sono Red e sto girando questo video nel mio studio di montaggio ecco perché l'inquadratura fa schifo lo sfondo fa schifo la qualità immagine fa schifo e l'audio fa ancora più schifo di tutto però vi devo dare delle comunicazioni quindi mi dispiace ma fatevelo andare bene questo video che state vedendo oggi teoricamente sarebbe dovuto uscire sabato scorso lo state vedendo oggi perché ci sono stati dei ritardi nella produzione dei due video speciali appunto per questo vi ricordo di schedina qua sopra andare a guardare il video che è uscito questa domenica dove vi chiedo di fare delle domande lì potete approfittarne in modo tale che possiate aggiungere delle domande prima che noi si vada a girare il video sbrigatevi perché lo gireremo in questi giorni detto ciò vi ringrazio perché siamo ormai sulla solita di 10.000 vi ricordo di condividere i nostri video con i vostri amici perché ci aiutate a crescere ogni nuovo iscritto è un secondo di video migliorato del nostro canale vi ricordo di attivare la campanellina iscrivervi al canale noi ci vediamo mercoledì no sabato cando cazzo ci vediamo noi ci vediamo sabato con un bel pillolone e poi dopo mercoledì e sabato prossimo con la fac e il video speciale della stanza qui da Red è tutto e stay angry che paura assurda